www.castelloincantato.it, la notizia, corre in rete. Scusate, da dove venite? Abbiamo fatto pulizia, attività ecologica. Ecco, qual è il vostro ruolo? Beh, abbiamo preso in affido con il comune di Mussomeli, attraverso il comune di Mussomeli la gestione di due aree, l'una qui dietro, il piazzale Moncibello e l'altra il mio bellini dietro la scuola. E stamattina, ecco, cosa avete fatto? Desespugliato. Abbiamo tolto le bacce, tolto la spazzatura, raccolto la spazzatura veramente, abbiamo buttato sei sacchi di spazzatura. E tutti questi volontari da dove vengono? Francia, Polonia, Francia e Polonia. Ecco, quanto staranno qui nella terra di Manfredi? Due mesi, sei qui? Sì, due mesi. Ok, ma sei qui da due mesi. Due mesi. Due mesi, veramente? Ok, sono qua i francesi da due settimane, staranno due mesi. Mathieu che è l'altro francese invece starà sei mesi in totale. E anche loro sei mesi in totale, i ragazzi polacchi. E vogliamo chiedere il nome di... Perfect, your name? Maxime. Mathieu? Nils. Your name? Your name, Gutischi. Carina. Metteteci passato. Siamo carina. Michał. Michał Michele per essere più... Michele. E allora, Archie Strauss, servizio di volontariato, vogliamo dire qualcosa? Ma io invito tutti i giovani della comunità a fare attività di volontariato, non solo perché è una cosa utile a livello personale, ma anche molto formativo e fa veramente responsabilizzare e crescere ragazzi, ma anche perché è una cosa molto utile per tutta la comunità in generale. Come vedete, noi abbiamo portato ragazzi europei qui a vivere l'esperienza mussomelese e devo dire che in generale ci stanno integrando benissimo. www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete